In questo video ragazzi faremo il test della fontana Red Blink, in realtà è una batteria di fontane, come potete leggere qua dietro, batteria di fontane, che significa che all'interno c'è più di un tubo, quindi batteria di fontane, 85 grammi, l'esplosivo netto contenuto che potete leggere lì sotto questa copertura di plastica che c'è su alcuni prodotti della Leslie, veramente un'attenzione figa per preservare il prodotto, gran bella attenzione, anche se devo ammettere che è veramente una rottura di palle togliere queste coperture di plastica, cioè veramente ci tirate varie imprecazioni, Leslie l'importatore, Fuochi e Festa è l'ente che lo rivende, che lo commercializza in Italia, Red Wire è un sottobrand di Fuochi e Festa, sottobrand della Leslie, super curioso di vedere questa fontana in azione perché ricordo un effetto molto particolare. Primo pezzo veramente in cui si alza il tiro raga. mi sa che forse è un po' basso il gas. Questa è veramente particolare, Red Wire Leslie. Ecco dov'era il blink, accecante! E sfaga questo ragazzi, sfaga un effetto veramente diverso, io non l'ho mai visto in una fontana, non so se... è un colore che non... Sono flash rossi! Flash rossi, ma belli! Per il resto fra, fa un colore, cioè fa un rumore mega ASMR. o, come in un video che vedevo oggi pomeriggio, uno che diceva asmr, 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 suoni asmr. Guarda tutte le nuvolette! Fa un botto di anelli di fumo, è vero! Stupenda! Che dici? Bella! Bellissima! Sì sì sì, molto particolare! Molto particolare! Molto particolare!